Capisci? Shhh, per cortesia! Mi scusi tanto, eh? Ma perché no? Che ti frega? Come che mi frega? Io fo' l'attrice, non fo' mica la... bah! Ancora? Abbia pazienza, so' cose delicane. Offendilo, perché a casa sua è con una scusa, mi hai detto che... E se poi hai detto? Bah! Eh? Quanti milioni date? Ancora? Volete stare zitti? A stronza, sta zitto te, sta a parlare sordi! Eh!